Un collega mi avverte che i 5 Stelle hanno votato contro alla Camera, la delega fiscale, si sono astenuti al Senato, quindi non è vero quello che ha detto Orfini che l'hanno votato a favore. Comunque se ho sbagliato vediamo, però non credo sia un collega. Ieri sera a servizio pubblico nella parte finale Marco Travaglio mi ha accusato di aver detto una bugia sul Movimento 5 Stelle. Vediamo se aveva ragione. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato del celebre decreto attuativo della delega fiscale, quello del 3%. Ho spiegato che evidentemente era un testo sbagliato, e infatti è stato ritirato, ma che il principio che lo ispirava era giusto. Ho letto due righe dell'articolo 8 della delega fiscale, quello da cui discende il decreto in questione. E ho spiegato che su quell'articolo anche il Movimento 5 Stelle aveva votato a favore. A fine trasmissione Travaglio ha annunciato di aver ricevuto da un collega la segnalazione della falsità della mia ricostruzione. I grillini non hanno votato a favore, ha spiegato Travaglio. È facile per chiunque di voi verificare, andate sul sito della Camera e scoprirete che sull'articolo 8 il Movimento 5 Stelle ha votato a favore. Esattamente come avevo segnalato io. Probabilmente Travaglio e il suo collega si sono confusi col voto finale sul provvedimento. Capita. Suggerisco però a Travaglio di scegliersi meglio in futuro le manine che gli scrivono gli sms. Passiamo quindi al voto sull'articolo 8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Senato approva. Passiamo quindi all'articolo 9. Questo è il voto sull'articolo 8. I 5 Stelle hanno votato a favore. Questo invece è il voto finale sul provvedimento che ha mandato Travaglio in confusione. Nel frattempo Zeggia, il sito di gossip di Casaleggio, fa le solite mistificazioni.